Solitamente il fine settimana vegliano sulla sicurezza dei numerosi bagnanti e con un presidio garantiscono anche l'ordine e la sicurezza di chi vive in Lago Moro. Questa domenica i volontari del Nucleo Sommozzatori dell'Associazione Volontari Protezione Civile Sommozzatori Capriolo hanno fatto di più. I volontari si sono immersi nelle acque del suggestivo lago per ripulire i fondali. In questa occasione facciamo una giornata speciale, oltre alla nostra consueta presenza qui nel Lido di Capodilago per informare i turisti e vigilare sul rispetto delle regole. Abbiamo organizzato questa giornata dedicata alla pulizia dei fondali per la ripulitura di tutti i fondali utilizzati dai bagnanti. Un intervento subacqueo di pulitura del fondale che si è svolto alla presenza dei visitatori e appassionati turisti, un'occasione per sensibilizzare tutti alle tematiche ambientali. È importante innanzitutto per far sensibilizzare tutte le persone all'attenzione all'ambiente e quindi evitare di buttare nelle acque di questo lago come di qualunque altro corso d'acqua o lago o mare quegli oggetti che andrebbero diversamente conferiti negli appositi contenitori e in altri casi abbiamo anche provveduto alla rimozione di oggetti pericolosi. Tre anni fa abbiamo rimosso proprio da queste acque uno spuntone metallico decisamente pericoloso perché si trovava proprio nella zona in cui i ragazzi si tuffano. Nel corso della mattinata coppia di sommozzatori volontari assistiti da altri a terra hanno ripulito i fondali da lattine, sacchetti ed a ogni segno di passaggio non troppo corretto. Ora il lago è pulito ma l'invito è a mantenerlo tale. Ci si augura appunto che con queste iniziative di attenzione all'ambiente poi le persone ne ricavino una riflessione e quindi una maggiore attenzione nei loro comportamenti futuri. Alcuni dati che ci possono fare riflettere e aiutare a mantenere pulito l'ambiente riguardano il tasso di decomposizione dei rifiuti marini. Una bottiglia di vetro impiega un milione di anni, una bottiglia di plastica 450 anni, una lattina dai 80 ai 200 anni. Da qui il motto della manifestazione. Per un mondo più pulito anche quello sommerso. Il messaggio è chiaro. Avere un mondo più pulito è compito di tutti.